è passato più di un anno dall'uscita di apex ma anche dall'apertura del mio canale e su questo gioco abbiamo raggiunto un sacco di traguardi praticamente tutti quelli disponibili abbiamo sbloccato tutti badge abbiamo raggiunto il grado predator nell'ultima season abbiamo partecipato a tutti gli eventi abbiamo superato le 10.000 kill sul mio personaggio preferito octane ma c'è una cosa che manca non abbiamo ancora mai trovato un heirloom e quindi in questo video per festeggiare il traguardo dei 10.000 iscritti su youtube cercheremo di rimediare quindi vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale ma soprattutto passare dal mio instagram e dal mio twitch trovate tutti i link in descrizione o nel primo commento in evidenza e detto questo spostiamoci in game alla caccia dell'heirloom quale troveremo scrivetemi già un commento qui sotto per dirmi quale pensate che io troverò ed eccoci qui allora siamo su apex e direi che la prima cosa da fare se vogliamo trovare l'heirloom è shoppare perché al momento il conteggio delle nostre monete ammonta a zero quindi acquisterò delle monete partirò magari con 20 euro se saranno sufficienti mi fermerò lì se no toccherà andare avanti tenete sempre conto del fatto che per trovare un heirloom garantito bisogna arrivare a 500 pacchetti aperti io non ho idea di quanti pacchetti abbia aperto fino ad adesso quindi potrebbero mancarne pochi come tanti noi partiamo con 20 e si vedrà grazie l'acquisto è stato completato grazie a te psn i primi 20 euro sono volati e ci siamo pacchetti apex non ho voglia di acquistarli uno a uno li acquisterò 10 altri 10 un altro e direi che a questo punto possiamo partire con il pacco pening speriamo di trovare l'heirloom in prima possibile appena lo troveremo andremo comunque avanti ad aprire i pacchetti che abbiamo blu bianco blu ottimo modo di iniziare o almeno non è stato blu bianco bianco io finché faccio su materiali son felice quindi ottimo avanziamo blu bianco blu ancora mamma mia che tristezza tre frasi terzo pack terzo pack bianco blu blu terzo terzo pacchetto identico materiali bianchi non soddisfatti in pieno ma ancora ma mi sa che se sei rotto il gioco con questo doppio blu viola è già qualcosa materiali creazione viola va bene no no va benissimo è il drop viola migliore vuoi mettere bianco viola ancora mi dai ancora i materiali skin per il sentinelle per il sentinelle non ne ho mi pare no non ne ho avevo ancora la skin di base quindi perfetto se ce ne vai una leggendaria per il sentinelle ancora meglio per ora mi accontento blu bianco bianco droppaci sti materiali bravissimo gioco direi che abbiamo già fatto una cosa tipo 300 materiali bianco 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 blu ancora graber aglia da almeno una leggendaria non ti chiedo l'eroma i primi soldi spesi ma una leggendaria nada proprio proprio niente mi stai odiando gioco no io sto odiando grazie grazie e ci da no guarda io vedo questi corvi già capisco perché questo sfondo ma hai dato lo sfondo per lui o no ma hai dato veramente lo sfondo per blow down apex io ti detesto e andiamo avanti ancora 10 pacchetti per non spendere altri soldi se l'eroma è qua dentro non si spendono più soldi ormai la vedo dura perché ne mancano 9 però la speranza è l'ultima a morire potremmo anche trovarlo prima dei 500 pacchetti aperti eh però lo troveremo proprio al 500esimo blu bianco bianco gioco non si smentisce mai tutte skin brutte un'altra per il sentinelle guarda questa è pure più carina di quella viola la equipaggiamo pure guardate tutta verde lime perfetta viola materiali materiali please no skin per octane diciamo che va bene per octane ho una cosa tipo 10 skill leggendaria va benissimo va benissimo blu bianco blu and we have ultimi 5 pacchi no io ho paura perché ho capito che questi non basteranno ho veramente tanta tanta paura ultimi 4 3 pacchetti poi le viola le sta droppando eh anche anche troppo sempre per il sempre per il sentinelle tutto per il sentinelle ultimi 3 pacchi sto perdendo le speranze non vedo luci rosse non è che ho l'account buggato io non è che ho l'account buggato io 2 pacchi 2 pacchi blu bianco blu ancora nulla ancora nulla incredibile ultimo pacchetto nooo tocca sborsare ancora nooo tocca sborsare ancora che palle io ho iniziato questo video pensando lo troverò ai primi 20 pacchetti me ne mancano pochissimi in teoria tocca andare avanti tocca andare avanti fai il bravo segui nico su instagram adesso facciamo 10 o facciamo 20 di nuovo prendiamo 10 ci siamo portafoglio di apex rifocillato hai ricevuto mille monete acquistare 10 pacchetti perfetto e ripartiamo con il pack opening allora dammi almeno un'altra leggendaria che poi prima su 20 pacchetti ho trovato una leggendaria sola ma che è sta roba un sacco di viola e va bene ma una leggendaria almeno un'altra su 10 me la devi dare guarda se no viola no viola è proprio io odio il drop viola su apex perché è un contentino a metà alla fine è raro ma fanno tutti schifo le cose viola quindi triple blu fantastico è il primo pacco triple blu che troviamo in questo pack opening bella questa posa per pat ancora materiali e va bene ancora più o meno blu bianco blu vedi viola continuo a droppare viola il gioco ci ascolta ancora per il seno ma è un troll dai ultimi quattro pacchetti bianco bianco blu bianco viola blu oh una skin per il triple take ha fatto la lucina leggendaria l'occhiolino avete visto nooo mi stai trollando gioco mi stai troppo trollando blu bianco blu blu bianco blu oro si son felice son felice per nooo per l'avoc che schifo c'ho già la skin zombie per l'avoc oh però la finicottero per la p20 bene una finicottero in più l'impero finicottero si sta espandendo piano piano ancora drop inutili ancora drop inutili ve lo sfondo non guardo neanche per chi è fa schifo fa schifo ancora incredibile bianco blu bianco ve lo sareste mai aspettati blu blu bianco dammi un'altra leggendaria triplo blu non mi basta come leggendaria doppia skin revenant neanche ultimi 4 pacchetti ultimi 3 pacchetti allora come non detto materiali li sto facendo a fine video vedremo ero a 2200 mi pare no bianco blu blu ah no bianco bianco blu neanche mi ricordo mamma mia che memoria di ferro pacchetto aperto due secondi fa cats e anche questi sono andati e anche questi sono cazzo andati oh shit here we go again oh shit no non fa più ridere vero no cioè a me non fa più ridere non so voi io faccio esplodere tutto se in questi 10 pacchetti non c'è il mio cazzo di heirloom perché io li ho superati 500 gioco li ho superati a quanto pare non ancora a quanto pare non ancora apex non è d'accordo una oro dai una oro ogni 10 pacchi più o meno la stiamo trovando è la mia skin preferita per bungalore questa mi piace no non è vero la mia preferita è quella con il casco completo però però va bene però va bene mettiamola non ho mai usato bungalore in vita mia quindi non è che è successo io rido perché l'ho sempre detto l'ho sempre detto il giorno in cui troverò un heirloom lo troverò del personaggio che odio di più pausa di riflessione ho veramente speso 500 euro su questo gioco per l'heirloom di blowdown no veramente si l'ho fatto l'ho fatto veramente lato positivo quando adesso qualcuno mi chiederà nico ce l'hai un heirloom si ce l'ho che bello potrò dare una risposta affermativa a questa domanda dopo un anno è bello questo heirloom vero ragazzi ditemi con un commento che è bello per favore ditemelo sollevatemi il morale comunque si abbiamo una posa abbiamo l'heirloom e abbiamo la frase rendono ora i vincitori non agli sconfitti equipaggia e adesso ufficialmente siamo main blowdown no non è vero non lo sarò mai main blowdown però però il mio blowdown fa la sua porca figura qual è lo sfondo migliore questo è bellissimo però anche disse il corvo no disse il corvo mi copre bloody e mi copre l'ascia mettiamo pronta a colpire e va bene e non vedremo mai più blowdown probabilmente adesso come prima vabbè allora quindi io vi ringrazio per aver visto questo video questi otto pacchi li teniamo da parte no non è vero state tranquilli li apriamo ovviamente li apriamo fai il bravo segui nico su instagram adesso sperando in un altro drop leggendario almeno no un'altra leggendaria su otto pacchetti ci potrebbe stare ci potrebbe stare ultimi sette ma chi sono io nostradamus no basta però basta di tutte le leggendari trovate oggi non ce n'è una che mi serva pure mirage già ce l'avevo va bene le leggendarie le abbiamo trovate quindi non ci possiamo neanche lamentare col drop rate del gioco perché effettivamente effettivamente Apex è un gran gioco guarda quante ce ne da materiali grazie grazie gioco io io mi rimangio tutto quello che ti ho detto tutto va che belli altri 600 materiali sono felice sono felice ultimi 4 guarda mi dai un'altra leggendaria negli ultimi 4 shop altri 10 euro non è vero avevo le dita incrociate comunque un'altra leggendaria me la puoi dare sarebbe carino da parte tua dopo avermi fatto trovare l'heirloom del personaggio che odio di più non sarebbe male blu bianco blu vai droppami qualche altro materiale e va bene così direi ultimo pacchetto attenzione viola ci avevo sperato e ok abbiamo finito direi no stavolta abbiamo finito davvero abbiamo finito e quindi si adesso abbiamo ufficialmente l'heirloom di blowdown quindi io vi invito a supportare questo video perché mi è costato abbastanza in termini economici se mi lasciate un like mi fate un favore iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ma soprattutto condividetelo con i vostri amici vi ringrazio tutti di cuore per il traguardo dei 10.000 iscritti visto che non l'ho fatto all'inizio video quindi cuoricino per tutti passate una bella serata e noi ci vediamo presto nel prossimo video come sempre domani alle 18 o se vi va potete anche passare a salutarmi e farmi gli auguri per i 10.000 iscritti in live questa sera alle 21 il link al mio canale twitch come sempre lo trovate in descrizione o nel primo commento in evidenza insieme anche al link al mio profilo instagram e allora detto questo vi saluto veramente quindi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti I don't fly